ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu come me lo sai iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico immancabilmente un video al giorno anzitutto se pensi di vendere la tua moto clicca qui sotto in descrizione e parliamone oggi ti parlo di benelli ma di una benelli non molto recente perché si tratta della benelli trk 1130 del 2012 è un modello che entra in produzione 2006 viene prodotto fino al 2016 tratta quindi una moto sicuramente sportiva anche perché il motore è un tricilindro che nasce per un utilizzo sportivo ma comunque si dimostra valida anche nelle percorrenze cittadine grazie alle dimensioni compatte alla buona posizione di guida da segnalare come il parabrezza offre una buona protezione aerodinamica insomma una moto con un pilio sportivo ma che a sé essere utile anche per un impiego quotidiano bene quindi vediamola in questa immagine che la rappresenta ecco con il solito colore benelli verde in contrasto col bianco il motore quindi dicevamo il tricilindrico con una cendata 1131 cm3 raffreddamento liquido 4 sono le valvole per cilindro con la distribuzione bialbero la potenza massima di 125 cavalli 9.000 giri al minuto e la coppia massima di 112 newton metro 5.000 giri al minuto quindi con una buona coppia anche a regime piuttosto basso il telaio scomponibile l'anteriore presenta un traliccio in tubi d'acciaio mentre nella parte posteriore il telaietto in fusione di alluminio la sospensione anteriore è formata da una forcella stelle rovesciati da 50 mm con la regolazione idraulica in estensione compressione e il precarico della molla la sella alta 850 mm da terra posteriore invece la sospensione formato da un forcellone oscillante a traliccio molto bello nell'estetica con i tubi d'acciaio con un ammortizzatore mono ammortizzatore regolabile nell'idraulica in estensione e nel precarico della molla il freno anteriore vediamolo meglio nell'immagine formato da un bel doppio disco da 320 mm di diametro mentre al posteriore abbiamo il singolo da 240 mm le ruote sono in lega leggera da 17 pollici all'anteriore come posteriore il serbatoio contiene 22 litri di benzina il peso secco di 215 kg quindi un peso adeguato per il tipo di moto per la cubatura della moto mentre in ordine di marcia di 240 kg il prezzo all'epoca di 12 mila 900 euro se ti è piaciuto il video metti un like se non ti è piaciuto metti dislike vestiti al canale e attiva la campanella per due motivi primo è gratis non ti costa assolutamente nulla secondo faccio un video al giorno e si è sempre aggiornata aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao buona serata